Non c'è dubbio di San Fionici, non c'è dubbio, però credetemi, non lasciamo più parlare, solo a me, uno che ha fatto due referendum per isolare, per rendere autonomo, lo manchia dentro, perché siamo finiti, perché ci stanno mettendo nelle mani qualcuno che ci massacrerà, forse che ci mangerà direttamente. Grazie Presidente, Diego, mi corre d'obbligo, sia più e buonariamente, rappognarla a dovere su Marx, perché l'idea di Marx non era quella propriamente di abbassare tutti, no, l'idea era ormai di inalzare tutti, se è intuitivo massimamente, l'obiettivo di Marx non era quello di far viaggiare tutti in seconda classe, ma tutti in prima, cioè l'idea è evidentemente un po' che una cosa è quello che si vuole dire, una cosa è quello che si potrebbe, non c'è dubbio che battuto il capitale, l'accattamento era fatto, non poteva essere verso l'altro, perché non ci sono le rivoluzioni di gente, per farlo verso l'altro, cioè tutti i ricchi, e tutti che comandano non potrebbero essere, sono tutti buoni, nessuno che compra nulla, questo è quello che potrebbe essere, per cui io, magari semplificato, però lei non è un'educazione fisica, se vuole contrarre nulla. Allora, il progetto di Marx parte del presupposto che la società capitalistica, e sfido chiunque a negare questo punto cardinale, è una società totalmente rovesciata, una società in cui l'ultimo scarsone della premonese, perché capisce un salario più alto del lavoratore o dell'aludiciano è una società rovesciata, una società in cui una banca può portare via la casa o un cittadino, in una società del vittorio, fallisca in questa caso, come predittorio, perché si farà passalmente. Esattamente questo è il agentsismo. La banca è stata mondiale... La banca è stata, la banca è stata, la banca è stata... Sì, e non devo far portare di questa cosa. La banca, se chiamava con il consiglio... La scusate, la metà che è l'un メemarianizzatore pregione del nostro paese, non ci fanno hanno delle regole soliti che sono lasciate a fare, ma non è che oggi la palla, toglie la casa a contadino, la toglie a contadino, che è un marito se non gli pagano se non gli pagano, per cui il concetto è un po' diverso devo dire sinceramente che con la mia idea di marzini che è quella a basso probabilmente il problema del mutuo a casa è già che sarà più finito perché tanto non c'erano la casa, però non c'è giusto che è una struttura che la banca si possa mettere in gloria la casa cittadina, perché non ci sono garanzie, ma le garanzie che la riuscita c'è da soltanto una democrazia capitalista, per portare in marzini un po' è l'obbligo di modo di fare una precisazione, prendiamo il caso degli Stati Uniti in 2007, il tempio del turbo capitalismo a polide sugli Stati Uniti nel 2007 ci fu il caso dei subprime e dei mutui assassini ossia la leva del debito e quella con cui si schiavizzano gli esseri umani io ti presto dei soldi sapendo già da subito che tu non potrai mai restiturmeli e con questo stratagema ti porto via la casa ti porto via il partenone che mi stanno a vedere ti porto via le sue frazioni chiudere il capitale oggi è una zona di schiavitù non ci sono